Italia Nostra non poteva che essere contraria a una manifestazione di questo tipo al parco urbano. Non siamo certo contrari al concerto, per carità, ma contrari al parco urbano. Il parco urbano è una sorta di miracolo urbanistico che ci viene invidiato da tutto il paese, riconosciuto dalla miglior cultura urbanistica del paese. Il parco delle mura e il parco urbano fanno sì che Ferrara sia a livello europeo, a livello di verde attrezzato e verde pubblico, considerato un esempio di grandissima qualità. Fu nel piano del 75 che si elaborò questa idea che il territorio sostanzialmente inedificato tra il centro storico e il fiume, dovesse rimanere inedificato e diventare parco. Sostanzialmente quel territorio è un appendice del centro storico ed è stato tutelato come il centro storico. È quindi un territorio di riequilibrio ecologico, un territorio fondamentale per l'ambiente urbano di Ferrara, come riequilibrio anche dell'area industriale. Non a caso, considerato poi nel piano paesaggistico regionale, ci riferiamo al piano paesaggistico che fu elaborato in base alla legge Galasso dell'85, fu tutelato all'interno del piano paesaggistico come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale, con la normativa di conseguenza. Quindi è un territorio da tutelare, da conservare, da mantenere tale, e non è un territorio da consumare. Questo tipo di attività, di iniziative, non possono essere compatibili con un territorio tutelato. La presenza di decina di migliaia di persone con tutte le attenzioni che si possono avere non è compatibile con un territorio tutelato per la flora, per la fauna, di riequilibrio territoriale come il parco urbano. Alternative sicuramente ci possono essere a Ferrara. Sono alternative che vanno costruite, ovviamente, costruite nel Tempolo. La precedente amministrazione aveva iniziato un discorso con il Demanio per l'acquisizione, uno scambio, con una parte del territorio dell'aeroporto. Una collocazione assolutamente adatta per manifestazioni di questo tipo. L'attuale amministrazione ha ritenuto di non andare avanti con quello scambio che era previsto, ma ci auguriamo che questo discorso veniva ripreso. Ferrara ha bisogno di luoghi in cui svolgere questo tipo di manifestazione. Il concerto di sprinting è la punta dell'iceberg, nel senso che ci sono una serie di altre manifestazioni che richiedono grande presenza di pubblico, che sono state in passato fatte impropriamente nel parco urbano. Non è vero che non abbiamo mai detto niente, ci siamo sempre opposti a questo tipo di manifestazioni, che devono essere svolte in modo proprio in altri luoghi. Quindi uno può essere l'aeroporto, forse una battuta, sto vedendo quelle montagne di terra adesso vicino alla rivana, per i lavori che stanno facendo al nuovo tunnel ferroviario. Quel terreno opportunamente rimodellato potrebbe accogliere decine di migliaia di spettatori. Detta così è una battuta, ma può essere uno spunto di riflessione, sia come luogo che come possibilità.